Ciao a tutti da Salvatore Massimo Faccio di Letto, Riletto, Recensito. Oggi si recensisce un libro di una casa editrice parecchio nuova che però sembra avere l'esperienza di una grossa enorme casa editrice indipendente che si impone. Trattasi di terrarossedizione.it, casa editrice pugliese, se non sbaglio perché l'ho letto. Se sbaglio pazienza, mi perdoneranno. Loro si occupano principalmente di creare, riportare in auge libri che sono spariti dall'editoria e quindi di stamparli. Ecco che il telefono mi suona nuovamente, l'altro io adesso lo metto in silenzio, un attimo solo, ecco l'ho messo in silenzio. E quindi questo libro invece di Claudia Lam, Jenny Lasecca, è un libro che è l'unico non della prima serie, non riportato, non rieditato perché è una novità. E tra le altre cose un inedito, questo libro ha vinto il contesto letterario Spiriti Libri nel 2015, signori, non è roba da poco, eh? Un attimo solo, eh? E Jenny Lamanna, di che tratta? Serebbe quasi una drammatizzazione da portare in teatro perché all'apertura del libro noi vediamo l'elenco dei personaggi con i loro soprannomi. Però il personaggio che la fa per la maggiore è Jenny Lamanna, Jenny Lasecca e il coprotagonista principale è tale Trip, detto Trip, che sarebbe Domenico, non ricordo il cognome, Daniele Terni, Daniele Terni. Libro ben fatto, come molta editoria indipendente, però ripeto sono dei giovani ragazzi che ho avuto modo di contattare. In verità la cosa è stata molto più bella, però sembrerebbe quasi che do vanto uno di questi qui che l'ho incontrato casualmente ad un festival letterario, mi ha detto lei è filosofo faccio, ha detto sì, mi ha raccontato un po' l'episodio e ho avuto il piacere di andare a comprare tutti i libri e di poterli regalare, tranne questo qui in quanto inedito e tenermelo per studiarlo, perché si studia quando si fa una recensione e poi recensirlo. Questo libro di Terra Rosse Edizioni, di Claudia Lamanna, si chiama Jenny Lasecca, perché Jenny Lasecca è una ragazza che appartiene a un gruppo di ragazzi vent'anni prima, vent'anni dopo sono tutti maturi e sono tutti quanti messe in delle situazioni drammatiche, incroci delinquenziali, pericolosi, altri e quindi anche fra loro vi sono degli scontri importanti, proprio l'apertura è che questo trip, Daniele qualcosa detto trip, torna nel luogo dove hanno vissuto sin da piccoli a scuola e altro e comunque viene chiuso in una cucina, la cucina che era intoccabile dove non si doveva entrare, qua si vede infatti, si è legato a una sedia e picchiato fino a quando lui deve parlare. Tra flashback del passato e l'attuale ricorrenza, Claudia Lamma, riesce a raccontare due narrative in parallelo e questo qui tiene viva attenzione di un lettore come me pure, che praticamente ci sto sempre parecchio, invece mi ha portato a studiarlo, a leggerlo, ad andare avanti parecchie volte. L'incognita, il dubbio, Jenny Lasecca, chi è? Era Lasecca, soggetto timido, preoccupato, sempre ansioso, no, ansioso no, però timido sì, quando era a scuola, invece diventa il portento di questo gruppo che poi si ritrova a combattere, insomma, questa situazione di drammi, di vita reale che in molti si trovano fra delinquenza spicciola e qualcosa di ancora più grande dove andare a ripararsi e tentare di non lasciarci la pelle. Per Terra Rossa edizioni, lo ripetiamo, a 15 euro il prezzo di copertina, sì, Jenny Lasecca di Claudia Lamma, già ha vinto un premio, casa editrice movissima del 2017, 2015-2017, basta, libro consigliatissimo per chi ama le narrazioni in parallelo, voto 9. Ciao a tutti, da Salvatore Massimo Fazio di Letto Riletto Recensito, potete seguirci su www.salvatoremassimofazio.it, sulla pagina Letto Riletto Recensito Facebook, sul gruppo Facebook quelli che è Letto Riletto Recensito, sul Twitter Letto Riletto Rec, su Instagram Letto Riletto Recensito e sul canale YouTube che citerei molto, metteste le vostre, vi iscriveste al fine di poter far crescere la pagina e trovarmi anche in partnership con altri blogger. Ciao!